19 c'è anche un elettricista di buoni manutentori completamente paredes mi devo qualcosa io sono ancora 13.2 mi ricordo se è 1 o 2 13.2 è qua sperando adesso ci può dare 4 4 5 5 5 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 16 16 16 17 16 17 17 18 19 19 18 19 22 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 26 25 niente perché dicono colpo bassissimo resisti gino con la donna fa di tutto per me rischio k o tecnico no no guarda adesso gino io ho voluto fare l'elegante dopo che avevo fatto la mara con britney spears e ovviamente ho cercato di